Da un lato l'ennesimo sbarco, dall'altro i sindacati di polizia che lamentano criticità domani all'hot spot di Taranto, l'ispezione del sottosegretario Nicola Molteni. Incidente stradale nel Tarrechino, una 72enne che viaggiava a bordo di una lancia guidata dal marito e motta nel sinistro che ha coinvolto altri due mezzi nella zona industriale di Fagiano. L'arte di Echide Lauro, ospite del Mediterraneo, mostra Museo Marta di Taranto per la composizione e di un quadro sonoro. Bentrovati sempre in diretta, prosegue l'informazione in formato provinciale, i titoli di Taranto con il nuovo sbarco di migranti questa mattina al porto 267, i profughi sbarcati dalla nave Geo Barents di Medici Senza Frontiera. Ancora un attacco nel porto di Taranto, ancora centinaia di migranti esaussi dopo un'attesa di sette giorni prima di toccare terra, è toccato nuovamente la nave Geo Barents di Medici Senza Frontiera per la terza volta nell'arco di poche settimane, soccorrere in mare e portare in Italia 267 migranti. Abbiamo ascoltato Giulia Virdis, consulente legale di Medici Senza Frontiera. Le persone soccorse stanno abbastanza bene, ovviamente erano tutte altamente disidratate, però nessun caso grave. Abbiamo salvato 267 persone, alcune di loro hanno passato molti giorni in barche alla deriva, in mare, nonostante alcune barche passassero di fianco e il loro richiesto di aiuto rimanesse inascoltata. Abbiamo 65 minori, di cui 45 non accompagnati e alcuni minori sono altamente vulnerabili. Si è risolto intanto un piccolo giallo riguardante un'altra nave, la Sia Watch, che ha lasciato il porto ionico nelle scorse ore dopo esservi rimasta per oltre un mese ormeggiata presso la Darsena Servizi. Antonello Napolitano per lo Ionio.it ha contattato l'ufficio stampa della Sia Watch. La nave è stato spiegato e rimasta nel porto ionico per effettuare il cambio dell'equipaggio. Restiamo in tema perché per la giornata di domani è atteso l'arrivo per un'ispezione nel centro hotspot di Taranto del sottosegretario Nicola Molteni e dell'onorevole Gianni Tonelli. L'hotspot tarantino per il sindacato autonomo di polizia è la punta di un iceberg, di una situazione di cui più volte proprio i poliziotti hanno evidenziato diverse criticità. Arriveranno per un'ispezione nel centro hotspot di Taranto nella mattinata di venerdì il 9 settembre il sottosegretario al ministero dell'interno Nicola Molteni e l'onorevole Gianni Tonelli segretario della commissione parlamentare antimafia e segretario generale aggiunto del sindacato autonomo di polizia. Tre punti cardine rivendicati, incremento dell'organico, adeguamento della struttura e protocolli operativi. Noi chiediamo innanzitutto che a Taranto venga inviato personale, adeguato personale, venga trasferito per la gestione dell'hotspot perché attualmente gli attuali organici della questura non riescono a gestire questa situazione. Si individui che cosa deve essere questa struttura. Se deve essere un hotspot sia adeguata e strutturale per essere un hotspot. Se deve essere un centro per una permanenza più lunga siano create delle postazioni adeguate che possano consentire ai nostri colleghi di vigilare questa struttura in modo adeguato ed in sicurezza. Chi va a fare servizio nell'hotspot deve sapere nel caso in cui ci fossero fughe degli immigrati come più volte è avvenuto nel tempo e cosa bisogna fare. Questo deve essere riportato in un protocollo operativo per iscritto. L'hotspot di Taranto per magazzino è solo la punta di un iceberg. Tutto questo si ripercuote in breve sul problema della sicurezza, sulla gestione del controllo del territorio. Si va a ripercuotere anche sulle condizioni psicofisiche dei nostri colleghi, sull'impiego del personale in questi servizi. Incidente mortale nel Tarantino, nella zona industriale di Fagiano, una 72 deceduta nello scontro tra tre auto. Le strade del Tarantino tornano a mietere vittime. L'ennesimo incidente stradale mortale è costato la vita ad una donna di 72 anni di Monteparano che viaggiava a bordo di una lancia Y condotta da suo marito, ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. La tragedia si è consumata la scorsa notte nei pressi della zona industriale di Fagiano, incontrata a Baronia nel Tarantino. Sono due i veicoli coinvolti nel drammatico sinistro. I carabinieri dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Si ipotizza uno scontro frontale, ma è ancora tutto da accertare. Oltre alla donna deceduta, il bilancio è di tre feriti. Di questi nessuno sarebbe in gravi condizioni. Tutti sono stati soccorsi dai sanitari del servizio 118 e condotti in ambulanza all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. L'altra auto coinvolta, una Mercedes, dopo l'impatto è finita in una scarpata. Sono inoltre intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Taranto con uomini e mezzi, ma anche i vigili del fuoco di grottaglie costretti ad operare per diverse ore per rimuovere le auto accartocciate sull'asfalto e ripristinare la sicurezza di quel tratto di strada interessato. La politica e le politiche con Verdi e Sinistra italiana in presentazione questa mattina a Taranto. Per le elezioni politiche, Verdi e Sinistra italiana scendono in campo insieme. Due temi su tutti che li tengono insieme, le energie rinnovabili e i diritti per tutti. A Taranto, candidati per la Camera al Collegio plurinominale, Angelo Bonelli, Elisabetta Piccolotti, Giovanni Carbotti e Sonia Fornaro. Per il Senato, Ilaria Cucchi, Domenico Caporusso, Caterina Marini, Vincenzo Puzzovio per il plurinominale pugliese. Coniugare il tema della giustizia sociale con quella climatica e lo vediamo oggi con il caro Energia. La responsabilità dell'aumento dei prezzi energetici sta nel gas e la irresponsabilità di chi negli anni passati ha puntato a far rendere l'Italia dipendente dal gas. Pensiamo e ricordiamo che l'ex amministratore delegato dell'Endi diceva che chi si occupava delle rinnovabili era un ubriaco. Queste sono le incondizioni in cui ci hanno portato. Ora bisogna puntare sulle rinnovabili perché hanno un costo energetico basso e danno una risposta alla crisi climatica. I nuovi driver di sviluppo devono necessariamente passare per la transizione ecologica, per la transizione energetica e per la lotta alle disuguaglianze sociali. Taranto oggi sta diventando proprio un modello, un esempio in questo senso, con tutta la programmazione e le azioni che sono state messe in campo per quanto riguarda la decarbonizzazione o per quanto riguarda le azioni nell'ambito del JTF o per quanto riguarda i progetti che puntano per esempio la creazione di un idrogenab. È stato presentato un manuale per gli operatori marittimi, diciamo tutto nel servizio di Leo Spalluto. Una presentazione di successo alla Castello Aragonese. Nuova edizione per il volume Handbook on Maritime Shipping di Antonio Mantua, docente raccomandatario marittimo, edito da Sirio. Si tratta di un manuale di riferimento per ogni operatore marittimo e più in generale per coloro che lavorano nel settore portuale dedicato alla memoria del capitano Ruggero Giorgi. A introdurre l'autore Deborah Giorgi, giornalista e coeditrice del volume. Ha moderato i lavori Pierangelo Puzzolo, direttore editoriale di Antena Sud e direttore dei settimanali Lo Ionio e l'Adriatico. Sono intervenuti tra gli altri il presidente di Raccomar Taranto Giuseppe Melucci, il presidente del Consiglio Comunale di Taranto Piero Bitetti, i consiglieri regionali di Gregorio Scalera e il presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma, oltre alle rappresentanze della Marina Militare. Ritengo che sia una sintesi essenziale del nostro lavoro, quindi immagino che possa, e credo e spero, che possa aiutare chi già svolge questa attività. È già la seconda edizione, quindi la seconda edizione è ampliata e aggiornata. Dedicato a mio padre, il capitano Ruggero Giorgi. Molti lo ricordano appunto come il capitano, lui è stato direttore dell'agenzia Marittima Gennarini e perito navale. L'amministrazione comunale, il Consiglio Comunale ha accolto di buon grado questo strumento. La città di Taranto è in una fase di cambiamento che è sotto gli occhi di tutti, un cambiamento che guarda al futuro. Parliamo ora di scuole, dell'inizio del nuovo anno scolastico. Andiamo a Pulsano con lo zaino sospeso. Si chiama lo zaino sospeso ed è una nuova singolare iniziativa partita in questi giorni a Pulsano, con la finalità di aiutare le famiglie della città che dovendo affrontare la spesa, che puntualmente accompagna l'inizio di un nuovo anno scolastico, sperimentino le difficoltà e i disagi derivanti dall'evidente rincaro dei prezzi. Diciamo che io da ex amministratrice, ex assessore dei servizi sociali del Comune di Pulsano ho toccato con mano quelle che sono le difficoltà delle famiglie. Ancora più quest'anno come mamma mi sono resa conto, facendo appunto la spesa per l'inizio della scuola, una spesa inevitabile, mi sono resa conto degli aumenti. E ho contattato subito le cartolibrerie di Pulsano per metter su dei cesti all'entrata della propria attività per sollecitare un po' tutti a donare, ma anche con una matita, una gomma, un diario, un piccolo gesso anche di un euro a testa che può però tutti insieme far tanto per alcune famiglie appunto. Presso la sede dell'Associazione Turistica Proloco sarà possibile consegnare quello che si intende donare oppure direttamente presso le cartolerie della città che aderiscono all'iniziativa. Il materiale raccolto sarà poi consegnato alla Caritas che provvederà alla distribuzione. Vi aspettiamo tutte le sere, dalle 19 alle 21, 22 più o meno, per la consegna di quaderni, penne, libri, diari, tutto ciò che è cancelleria e che può servire per gli studenti a scuola. Con l'occasione volevo utilizzare anche i vostri canali per augurare una buona scuola a tutti gli alunni di Pulsano. E grazie al WWF 88 piccole tartarughe hanno raggiunto il mare. Una insolita passeggiata notturna, la magia della natura dopo 5 giorni di immersione dalla sabbia è terminata l'avventura di guardiania del sito di nidificazione di Caretta Caretta nell'isola amministrativa di Taranto, nella spiaggia libera, nei pressi dello stabilimento Baia del Sol. Il nido rinvenuto il 6 luglio scorso è stato sorvegliato e protetto dai volontari delle organizzazioni aggregate del WWF Italia nel progetto Insieme per Caretta, azioni di sensibilizzazione per tutelare una specie chiave per gli ecosistemi marini. I volontari si sono impegnati con turni estenuanti 24 ore su 24. Al cinquantesimo giorno dalla deposizione le prime 31 piccole tartarughe sono emerse dalla sabbia, davanti agli occhi entusiasti degli operatori del WWF Taranto, sempre presenti con il presidente Gianni De Vincentis in prima linea. Le tartarughe guidate dal personale specializzato e dai volontari del centro WWF Italia di Policoro e della WWF Taranto hanno raggiunto in pochi minuti il mare. Sono in totale 88 le piccole tartarughe emerse naturalmente, raggiungendo la percentuale di schiuse ed emersione dell'86%, a dimostrazione delle competenze dell'impegno del WWF Italia nella salvaguardia dei cheloni marini. Fondamentale anche il ruolo svolto dal comune di Taranto, che ha provveduto con apposite ordinanze del sindaco Melucci a garantire la tranquillità dell'area dal possibile transito dei bagnanti, grazie all'interessamento dell'assessore all'ambiente Laura Di Santo. L'arte di Achille Lauro, ospite del Medita in mostra, potremmo dire così, al Museo Marta di Taranto per la composizione di un quadro sonoro. Taranto ha riaccolto il cantautore veronese sulla bocca di tutti. Achille Lauro visita il Museo archeologico nazionale di Taranto, per il quale comporrà un quadro sonoro nell'ambito di un progetto ideato dall'orchestra della Magna Grecia, con il quale si è già esibito in maniera inedita negli scorsi anni. Tanti fan che speranzosi di un certi si sono affacciati al Marta, ma senza successo, attendono con trepidazione la sua esibizione venerdì sera sulla rotonda del Lungomare per il secondo appuntamento del Medita Festival. In che modo l'archeologia potrà ispirarla e qual è il suo rapporto con Taranto? Sono una persona che sicuramente prende spunto da tutti i movimenti artistici passati, vapesco, librido, generi, sia con la musica sia per quanto riguarda l'immaginario. Per me è molto importante lavorare a questo progetto perché è un progetto unico al mondo, in una location unica al mondo, un progetto di estrema rilevanza culturale e sono veramente legato a questa città perché appunto mi ha permesso prima di tutto di sperimentare, di vivere con il maestro Piero Romano e l'orchestra Magna Grecia qualcosa di nuovo. Come sarà questa iniziativa? Io amo appunto sperimentare, amo il mondo dell'arte in tutte le sue forme, le sue espressioni e amo sperimentare nuovi progetti, insomma nuove sfide come sarà questa. Ed è tutto per questa edizione del Tg Provinciale dedicata a Taranto, ora i titoli e le news di Brindisi e Lecce. Mentre il consigliere regionale Amati incolpa quelli del no a tutto per l'aumento di produzione di carbone a Cerano, a Brindisi si affacciano nuovi progetti energetici in odore di idrogeno verde. Shopping online ma anche locale tra app Salentine e attenzione ai prezzi tra gli scaffali del supermercato. Legalità, coraggio, dovere e incontro organizzato a Brindisi dalla Scuola di Formazione Caponetto per parlare degli uomini del generale dalla Chiesa. Ben trovati di nuovo in diretta l'informazione provinciale dedicata a Brindisi e Lecce. In primo piano il paventato aumento di produzione del carbone a massima potenza per la centrale a carbone di Cerano. Questo come conseguenza dei tanti no ad altre fonti di energie, in primis quelle rinnovabili registrati negli anni. Almeno questo è il parere con attacco e critica del consigliere regionale del Partito Democratico. Fabiana Amati. No a questo e no a quello e alla fine come i bimbi monelli ti becchi il carbone, quello dei no più forti e decisi ma che un po' oggi appaiono forse sbiaditi, meno rumorosi. Il paventato aumento di produzione alla massima potenza previsto anche per la centrale termoelettrica di Cerano paventato dall'annunciato atto di indirizzo del governo non sarebbe solo un modo per tamponare la crisi energetica ma anche, secondo il consigliere regionale Fabiano Amati, la tragica conseguenza di ideologie obsolete. La colpa, dice Amati, è dei no a tutto. Mi chiedo di chi è la colpa? Perché siamo arrivati sin qui? E ovviamente la sequenza di no a tutto. No al gas, no al serbatoio GNL, no al gasdotto TAP, no al fotovoltaico, no alle rinnovabili offshore. No, una sequenza di no e non invece un sì con giudizio. E questa è la conseguenza, evidentemente. Adesso mi piacerebbe sapere tutti quelli dell'ideologia no TAP, anzi invito i giornalisti ad andare da quelli che usano l'ideologia no a tutto e chiedergli adesso che ne pensate, cosa avete da dire. Questo è il momento di dire che se siamo arrivati a questa situazione la colpa è dei no a tutto. No a questo e no a quello ed ecco che oggi si ritorna al carbone. Un'emergenza, una scelta obbligata, un provvedimento, quello del governo centrale, solo temporaneo, si spera almeno. E allora tra no a questo e no a quello ecco il ritorno che non ti aspetti. Senza un sì e questa volta, senza neanche un no in silenzio, per una volta. E parliamo sempre di energia, ma il carbone in questo caso non c'entra niente. Parliamo di progetti in odor di idrogeno verde. Un altro passo fondamentale è stato compiuto per lo sviluppo del progetto Puglia Green Hydrogen Valley, che prevede la realizzazione di tre impianti di produzione di idrogeno verde a Brindisi, Taranto e Cerignola per una capacità di elettrolisi complessiva, pari a 220 MW, alimentati da circa 400 MW di energia solare e fotovoltaica. Come previsto dagli accordi sottoscritti a settembre 2021, Edison e Saipem, quest'ultima detiene anche l'esclusiva per la realizzazione del progetto, hanno acquisito rispettivamente il 50 e il 10% della Albrena Hydrogen Brindisi SRL, società costituita per la realizzazione del progetto. Una volta a regime, tre impianti saranno in grado di produrre complessivamente fino a circa 300 milioni di normalmetri cubi di idrogeno rinnovabili all'anno, destinati ad alimentare le industrie presenti sul territorio e la mobilità sostenibile anche attraverso l'immissione nella rete gas locale. Quello di Brindisi, che si trova in una fase avanzata di sviluppo, prevede la realizzazione di un sistema di produzione di idrogeno verde mediante elettrolizzatori con una capacità di 60 MW alimentati da un campo fotovoltaico dedicato. Il progetto è stato proposto tra gli altri per il bando di finanziamento europeo IPCEI. L'intera iniziativa coinvolge importanti realtà regionali, tra cui la Quedotto Pugliese, le ferrovie Apulolucane, i distretti tecnologici e produttivi pugliesi, il Politecnico di Bari, le Università di Bari, di Foggia e del Salento, consentendo di massimizzare le sinergie con il territorio e favorire lo sviluppo di competenze per la creazione di una filiera locale. Parliamo ora di Shamu, ovvero in dialetto salentino andiamo, è un modo di dire, chiaramente, ma anche un'app che è stata creata da due ragazzi per rilanciare l'economia locale. Si chiama Shamu, la nuova app tutta salentina, che nasce dalle esigenze di dare visibilità online e territoriale a tutte le attività locali delle quali o non conosciamo l'esistenza o ignoriamo le loro promozioni, eventi, prodotti e servizi. Un incentivo, soprattutto, per acquistare nel territorio e rilanciare così l'economia locale. L'Appuciamo vuole rilanciare l'economia locale attraverso praticamente l'inserimento di tutte le attività, i piccoli commercianti, i piccoli negozi, ma anche i grandi negozi che troviamo all'interno del territorio. Questi negozi diamo l'opportunità con l'Appuciamo di avere uno shop online, o meglio, di sfogliare il loro catalogo online e quindi poi di acquistare o direttamente in negozio oppure di concludere l'acquisto attraverso l'Appuciamo stessa. Bisogna avere la consapevolezza che il mercato oggi è cambiato. Non è più un mercato fisico, ma è un mercato per lo più digitale, sovrastato anche e soprattutto dai grandi colossi, di quali ad esempio Amazon, per esempio, che sta distruggendo letteralmente l'economia locale. L'Appuciamo consente di aggiungere contenuti, noi li chiamiamo contenuti in evidenza, che possono essere promozioni, news, eventi, e danno la possibilità agli utenti di conoscere cosa c'è in giro. E al netto della tecnologia c'è chi comunque preferisce ovviamente recarsi di persona a fare la spesa, ovviamente con un occhio ci mancherebbe i prezzi. Gli aumenti, la crisi e il momento storico che stiamo vivendo impone una maggiore cura nella scelta della spesa quotidiana, ma come si organizzano i pugliesi, cosa decidono di acquistare, quanto spendono per un pranzo in casa quotidiano, scelgono ancora di mangiare carne ogni giorno? Beh, vediamo cosa ne pensano. Come ci si organizza a fare la spesa in un momento di crisi e di aumenti come quello odierno? Bisogna stare attenti ai prezzi, bisogna dare uno sguardo ben approfondito, bisogna approfondire, perché non è facile nel momento che stiamo vivendo. Quanto si spende per un pranzo ogni giorno? Dipende, se ci accontenta anche 7-8 euro. Carne ogni giorno? Non sempre. Guardiamo i prezzi. Cosa cucinerà oggi signora? Oggi pasta asciutta. E di secondo? Niente. Dipende da quello che vogliamo mangiare, ma non meno di 10 euro al giorno partono. Io cerco di comprare tutto nel senso man mano, massimo una settimana, non faccio più le scorte, a meno che non trovo l'offerta. Carne ogni giorno? No, 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 no. Perché dobbiamo per forza mangiare, dobbiamo per forza comprare le cose. Quanto spende per un pranzo ogni giorno? Secondo quello che compri, se compri il pesce va a caro, vai più sulla carne. Carne tutti i giorni? Sì, quasi tutti i giorni, sì. E si spende quanto, più o meno? In famiglia, compresa, sui 15 euro, diciamo. Ci dobbiamo organizzare. Quanto spende al giorno per un pranzo? 20-25. Carne tutti i giorni? No, compriamo il necessario. I prodotti che sta comprando, è attentissimo anche ai prezzi? Ma io già, ho prodotti già fino al 2024, sono un esperto. Ti porta avanti? Eh, dico, io so investire. E a proposito di spesa, a Copertino è stato inaugurato un nuovo centro Conad. Un appuntamento importante qui a Copertino, l'inaugurazione di un nuovo punto Conad, oltre 1200 metri quadrati, tantissimo personale, tante offerte. Insomma, una vera sfida di Conad sul territorio in un momento di crisi come quello odierno. Una sfida, quella che avete lanciato oggi sul territorio, un'opportunità per il territorio di Copertino. Spero di sì, perché noi siamo presenti in questo territorio da più di vent'anni, con un altro esercizio che stava qua vicino. Poi col tempo le situazioni sono cambiate, oggi i consumatori vogliono trovare un po' tutti i servizi e questo esercizio è pieno di servizi. E' un assortimento abbastanza profondo, c'è tutti quelli che sono di queste parti, sono di Copertino, vogliono trovare dei prodotti, vogliono trovare un assortimento, qui lo trovano. Quanti posti di lavoro avete garantito? Qui siamo intorno alle 20 unità lavorative che ci lavorano, sarà un orario continuato, quindi dall'inizio, dalle 7.30 fino alle 21, l'esercizio sarà aperto e contiamo di dare veramente, fare un buon lavoro in questa comunità. Tante le promozioni che sono importanti in questo momento di crisi? Il momento è difficile, perché i costi energetici sono tanti, oggi non è facile, perché con un costo energetico così alto abbiamo una situazione economica negativa, per cui stiamo sperando che la situazione si risolva a livello nazionale, perché con un'energia così cara qui è difficile lavorare. Sindaco, l'apertura di una nuova attività commerciale, così grande, così importante, è un'opportunità per il territorio di Copertino, soprattutto in un momento di crisi come quello di Erna? Assolutamente sì, ogni volta che si apre un'attività si apre anche uno spiraglio, d'altra parte mentre ci attendono anche tempi difficili, questa è un'attività quasi in controtendenza, ma quello che mi preme dire, in un quartiere importante che viene adesso servito, è quasi una seconda città questa dove sorge il supermercato, quindi sarà punto di riferimento, credo, anche per come è collocato dai paesi vicini, perché è facilmente raggiungibile. Migliorare la qualità di vita degli autistici attraverso le nuove tecnologie, attraverso, in questo caso lo vedrete, la realtà aumentata. È stato finanziato un progetto da 4 milioni di euro, ieri la presentazione a Casarano. Autismo è realtà aumentata, la scienza al servizio dei bisogni del soggetto autistico e della rete sociale, il progetto Aureola approda nei centri di Amici di Nico, per accorciare le distanze tra i reali bisogni delle persone autistiche e le loro famiglie, la sperimentazione scientifica di nuovi approcci tra progettualità e applicabilità. Il progetto è stato presentato a Casarano e prevede, oltre alle attività di rilevazione, studio e monitoraggio, formazione, la progettazione e la realizzazione di dispositivi e strumenti utili e l'implementazione di nuove strategie per migliorare la qualità della vita di soggetti con disturbo dello spettro autistico. È un progetto sicuramente che avrà una ricaduta sul territorio, sulle famiglie, sui bambini stessi e anche a livello nazionale probabilmente riuscirà a dare dei risultati positivi. Questo progetto parla di realtà aumentata, in effetti è una tipologia di intervento che non è propriamente adatta per soggetti con disturbo dello spettro autistico, ma se può aiutare, se è fatta bene, se può essere versatile e personalizzata per le tipologie di criticità che un bambino, un ragazzo, un adulto autistico può avere, potrebbe essere un supporto utile a quelli che sono tutti gli interventi cognitivo-comportamentali che normalmente si fanno in questi casi con disturbo dello spettro autistico. Normalmente gli interventi di tipo cognitivo-comportamentale sono molto efficaci e danno dei risultati evidenti, ma a volte serve anche la tecnologia. Torniamo a Brindisi per parlare di legalità, di coraggio, di dovere di Stato. La speranza degli uomini onesti, partendo dagli uomini del generale della Chiesa. Un ricco confronto a Brindisi presso il Museo Ribezzo, promosso dall'Associazione Caponnetto, per parlare di legalità, che parte dagli uomini dello Stato, come il generale della Chiesa, e dagli uomini della sua scorta, e dai semplici cittadini, come sua moglie, tutti vittime del terrorismo, raccontato nel testo di Fabiola Paternini, per mettere al centro degli esempi di legalità, che diano speranza agli uomini onesti, quella speranza che i cittadini palermitani avevano perso. Ricordiamo i caduti sul campo, ricordiamo quelli che ci hanno creduto come noi e più di noi nella battaglia che si andava facendo contro il terrorismo e contro la mafia, che sapevano che poteva finire male, ma sono andati avanti lo stesso, sono grandi eroi a cui dobbiamo ispirarci, non perché ci sia necessità di eroi, ma perché c'è grande esigenza di valori a cui fare riferimento. Sono gli uomini che accompagnarono il generale della Chiesa, io credo che iniziative come queste, come anche i tanti libri che stanno uscendo sul generale e sulle sue gesta, siano importanti e che sono un monito per le nuove generazioni, sono un momento di cultura, ma soprattutto un momento di conoscenza. Ascoltiamola e ripetiamo, viviamo quella che è stata l'esperienza, l'esempio costante del generale della Chiesa, questa sera abbiamo voluto fare memoria, non solo sul generale della Chiesa, ma su tutte le vittime, la moglie, Emanuele Asetti Carraro e l'autista, Domenico Russo, perché siamo convinti che il loro sacrificio non sia stato vano. È tutto anche per questa edizione, ora c'è lo sport, grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Rimani connesso, scarica gratuitamente l'app di Antenna Sud, trovi tutte le news, i programmi in streaming e on demand e le pagine social. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.